Musonazzi vostri Musonazzi vostri Musonazzi vostri Ma tu Musonazzi vostri Musonazzi vostri Sei pronto Don Sergio? Andiamo! Hai già cambiato macchina? No, ma questa qui è una macchina di utilizzo, ma per andare sai dove? Dove vai? Eh, a quel paese, a Capriate quel bel paese. Ah perché sei stato nominato prevosto Ecco, forza! Di Capriate o anche di Crespi Anche di Bergamo a fra poco Ma cos'hai in mano lì? Abbiamo tutto, abbiamo fatto il pieno Di che cosa? Dobbiamo anche guardarci Di che cosa? Guarda pieno di vino. È vuota Ma l'ho già bevuto io Don Sergio Poi mi inviti a mangiare Pizzata che ciapa, maia che Dura la ferma Questo è il matto grosso Il matto grosso Le patatine E siamo a posto Qui abbiamo da mangiare, possiamo stare via quanto vuoi È così distante Capriate Ciapa che il cestino facito che sono il preost Olio c'è dentro? Sì, tutto a posto. I freni funzionano? I freni vanno perfettamente Ma Capriate a montagna o in pianura? Ti porto io e ti faccio vedere Va bene, non farmi perdere Ti butto fuori dalla strada Ma è prima o dopo Milano? Lo vedrai fra poco, guarda due minuti di macchina E siamo arrivati Va bene, speriamo Tolgo gli occhiali perché non ti vedo bene Madonna che bello Ma hai chiuso le finestre? Tutto chiuso Hai chiuso le porte? Fatto, fatto E le chiavi? Le chiavi le ho consegnate a chi? Azzurra no? Ah, non lo sapevo Bene Allora possiamo anche andare se è tutto pronto Caspita siamo liberi Don Sergio Siamo come Basta essere Terence Hill E speriamo che Azzurra mi consigli le chiavi altrimenti che faccia entrare e io comandare Eh, non so chi comanderà qui eh Vedremo, vedremo, dai Parti, dai che andiamo C'è un po' di sole Via E il gas è chiuso almeno prima che salti in aria tutto? Eh, è casa tua tanto Ah, grazie Pronto Ma, ma, ma chi è che scassa? Ma, ma, ma chi è che scassa? Ma, ma Don Lazzarino non c'è più È passato, è andato via Ma cosa hai detto? Chi è che scassa? È il vescovo che ti chiama Oh Sei in ritardo Manca ancora tanto per arrivare A capire A capire la cornetta Pronto, pronto No, stavo dicendo Magari avevo paura che si scassasse la macchina No, no, tutto a posto Ma adesso stiamo quasi arrivando E manca poco Poi La porterò io al Minitalia Faremo quella cosa che ci piace tanto Va bene È stato un piacere Salve Ma cos'è Don Sergio? Mi stava origliando Ci mancherebbe Ma, Don Sergio Qual è l'oratorio di Ciserano? Aspetta, aspetta Che non ci vedo bene Eh sì Ma non lo riconosci dopo nove anni E quali sono le catechiste? Per forza è mezz'ora che mi porti in giro Sei ancora qui in paese Oh, è tanto che aspettavo questo momento Salutele almeno dai Salutele dai Salutele dai Catechiste! Cosa fai? È tanto che volevo farlo È un saluto No, non lo sapevo io Via, via, via Via, via che andiamo Via, via Adagio, adagio che arriviamo eh Direi dietro la testa che va veloce Adagio, frena Dai Don Sergio metti su un po' di musica Accendiamo un po' di musica dai Così almeno arriviamo Grazie Don Sergio Va bene dai Con tranquillità ci andiamo dai Calore Balla anche tu Don Sergio Sono vecchio io Lo so Pronto Abbascia un po' la musica lì È per te Accostati che è un po' importante Aspetta Aspetta Metti fuori la freccia Ok Veloce Pronto Ciao Don, sono Azzurra Ciao Azzu Dimmi Te Don, ascolta Se le Drianette fuori a toccare Madonna che udur Che veniva fuori dal banco E' spesa Questa Azzu E' la tensione della partenza Eh Tensione della partenza Oltre che la tensione della partenza Che aveva detto di sporco Ascolta E' attento Mi ha perdito il lavoro Ok però veloce Perché devo andare Don Ho trovato sotto a lei C'è una lavoro strana L'è la tua Ah sì sì Scusa Azzu Arrivo subito Non ti muovere Faccio un'inversione Preparati Ok aspetta Non sei vergogno Non vergogno Non mi sono andata a brigare Perché se sei vincita Mi manda morti da là Com'è? Torna indietro Eh perché ho dimenticato qualcosa Che cosa? Eh Don Sergio Ho dimenticato qualcosina Andiamo dai Andiamo Allora Don Sergio Pronto eh Accelerata Frenata Veloce eh? No Gesù che è Passa la macchina Arriva più E' sempre l'ultimo minuto eh E da nove anni Chi faccia questa raccomandazione Arriva mai puntuale Sperai che oggi sarà prevosto Dovrà arrivare puntual Altrimenti la gente Arrivi del Nazareno Coraggio che sei già in ritardo Muoviti Va bene Oh finalmente sei arrivato Ho preso tutto almeno Ho preso questa volta proprio tutto Cosa c'è qua? E' buca Eh Musonazzi vostri Ma tu Musonazzi vostri Grazie a tutti.